io sono paraculo a loro paramedici e tu paraculo bene, così viene nel video Bicciatto ciao Bicciatto, sei arrabbiato? qui c'è la freccia Lidio bellissimo qui doveva montare Suorina mi fai la foto finalmente un po' di bosco eccoci finalmente un po' di bosco piccolo bar self service per i pellegrini cani Bicci si vieni sì vieni sono vieni 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 Guardate che belle hortensie viola. Vuol dire che è in un punto di merda. Vuol dire parolazzi mentre sto filmando. Tim Bruxelles Service. Ormai va bene. Allora uno guarda da qua e dice, vai bene io come te c'è, puoi scoprire che. Per il suo viso, vi ha la scoperta. Allora uno guarda da qua e dice, vai bene io come te ecco. Ponte Deume L'impana d'ora Ha fatto un mio parente perché Ponte Deume Porta fortuna Non ho più la forza amica Adesso fai anche la parola Adesso ce la facciamo tutti e tre Ma io ti posso mettere il video? Ma certo, scusa se non mi metti mi appendo Questa sera te lo mando Metti che si veda la... Bene che ci facciamo la foto Basta, basta Filmiamo il rifugio dove siamo arrivati Maison Paz Paraiso Perfetto 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 Perfetto